Begolino Begolin 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 TV Begolin 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 TV buongiorno hai finuto ciao a tutti da Begolino ciao sono io vedete che abbiamo una sigla televisiva attenzione anteprima vai vedete che va ancora ma ancora perché non hanno capito eh ma no la terza volta ma chi l'ha fatta Mediaset questa chi l'ha fatta Sky Sky l'ha fatta Sky ecco perfetto sono Begolino adesso benissimo amici di Begolino TV buongiorno 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 ben ritrovati possono anche guardarla di sera questa cosa di Begolin TV sì sì mi alzo un po' perché siete tu sempre gigante io sembro una bella io sto bevendo una tisana in questa bellissima tazza molto livornese che è abbassata sei un ignorante una tisana e volevo sottolineare il fatto che questa tisana è a base di cioccolato essenze di cioccolato ribes nero e vaniglia buonissima ecco l'acqua me l'ha pagata quasi ecco fra l'altro fa una puzza incredibile scusa devo mettere il sottofondo ah no è vero che dobbiamo partire con un'altra cosa abbiamo stamattina un'esclusiva durante il programma una mamma ci ha mandato un audio un audio sonoro perché ricordiamo che l'audio è sonoro se l'acqua è bagnata l'audio è sonoro questa è una cosa importante ci ha mandato un audio via Snip e Snaps che abbiamo condiviso con gli ascoltatori che cos'è quest'audio? è la sigla della strana coppia del programma bravo cantata da Filippo che ha quattro anni volevamo far ascoltare anche voi amici di Begolino TV live dal computer di Gualdi prego fai la regia e ricco guardi mi ha mangiato un comore spettro da un mura e una mutura di una sanzara la strana coppia tutte le mattine e poi che a me butta giù dal letto la sera prima e uno staffatto con due risate tornerai perfetto la signora coppia tutte le mattine e raggiungo porta il buon amore se non ce l'hai fattelo venire non posso nunca fare tutto noi sta la coppia bravo bravo mamma mia mamma mia che soddisfazione almeno lui ci dà delle soddisfazioni sì 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 assolutamente mettiamo un sottofondo musicale io chiuderai in bellezza stamattina con un omaggio alla musica la musica dell'Alto Adige lo yodel Franz Lang Franz Lang che bello lo yodeling che bello lo yodeling amici di Begolino alla prossima ciao ciao ciao